Siamo pronti? Cominciamo? Buonasera, benvenuti. La bella stagione di Marco Ponti, il film che qualcuno di voi ha già visto, qualcuno di voi lo vedrà, ma è un racconto calcistico, una bellissima storia, un racconto romantico quasi. Faccio una piccola premessa, siamo tanti ospiti, abbiamo pochissimo tempo, quindi vi pregherei di fare domande esclusivamente sul film, limitarci a questo. Per rompere il ghiaccio faccio io la prima domanda, poi chi mi risponde ne risponde, intanto faccio la presentazione, scusate, l'emozione mi ogni tanto tradisce. Allora, qui al tavolo abbiamo Marco Ponti, regista del film, Gianluca Vialli, Roberto Mancini, Matteo Rovere di Gronellandia, Paolo Del Brocco, amministratore delegato per i cinema, poi sempre in sala, qui vicino a me, abbiamo Ivano Bonetti, Pietro Viercovud e Marco Lanna. E poi in prima fila abbiamo Tito Gerardi, Paolo Condò e Franco Ordino. Ho visto che si sono aggiunti altri ospiti, poi magari che li riconosco, poi li citerò, e sono degli attori del film, quindi a tutti gli effetti, quindi è giusto che... E come no, è certo, è così, dottor Ordine, assolutamente. Allora, per rompere il ghiaccio inizio subito io con la prima domanda inerente al film. Quanti anni ha veramente Tonino Sereso? Chi mi risponde? Penso 82. Perché poi lo dice lui, lo dice lui proprio in maniera esplicita, io che avevo 30 eccetera, eccetera, eccetera. Il film, per chi l'ha visto, è straordinario e aspetto domande dalla sala. Chi alza la mano? Se no continuo io, eh. Allora, inizio io. Inizio con il regista. Come viene questa idea? Domanda straordinaria, eh, insomma, però mi rendo conto. Guarda, c'è un tastino centrale. Ecco, perfetto. Quando vivi quel momento da spettatore ti mette un seme. E poi quel seme ha un tempo, no, per germogliare. E man mano che vedevo quello che succedeva dopo, quando ho visto un cerchio che si chiudeva nell'estate del 21, ho capito che non era solo una storia di un'impresa impossibile, di una grande vittoria, ma era una storia di grandi uomini. Una storia che parlava di valori, di amicizia, di legami, di relazioni. E quindi era una storia che non era una storia legata a un periodo, ma era una storia che ci riguardava oggi. Soprattutto in questo periodo qui dove, usciamo da un periodo dove le relazioni sono state messe a dura prova. Ecco, questa è la ricetta sana di come un rapporto di amicizia può essere in un gruppo completo ed eterogeneo. A quel punto ho pensato che era una storia che riguardava noi oggi. E da qui un'urgenza potente di dire che questo deve essere un film al quale dedico un anno e mezzo della mia vita. Un anno e mezzo della vita. E hai trovato subito terreno fertile quando l'hai proposto per essere prodotto? Il casting è stato facile perché dicevi, chi può fare Roberto Mancini? Roberto Mancini. Chi può fare Luca Mancini? Beh io mi sarei, dopo un provino magari, mi sarei proposto. E poi lascio la parola a chi ha più da dire di me, che per me è stato ovviamente un privilegio enorme incontrare innanzitutto Groenlandia, che ha accolto il progetto con un entusiasmo che è veramente speciale, Rai Cinema e Zero Uno. I compagni di viaggio di un film non facile, impegnativo, anche capire la nota esatta su cui suonare la nostra musica. E loro mi hanno messo a disposizione una macchina produttiva che da regista è stato un privilegio per me, ma è successo precedentemente. Per cui dico grazie. Benissimo. Allora, se non vedo mani alzate, continuo. Marco Punti ha citato appunto la facilità e i mezzi che la produzione ha messo. Io do la parola proprio ai produttori. Chi comincia? Matteo Rovere. Sì, buongiorno a tutti. Ma io, intanto il mio ringraziamento speciale che va al calore con cui Marco ci ha presentato l'idea, e Rai, Paolo, Zero Uno ha risposto, insomma qui ci sono anche Leonardo Godano, Emanuele Cava, Cecilia, Vassa, vedo lì che insomma ci hanno aiutato a realizzarla. È una storia di mesi, di grande insomma lavoro, di ricerca che Marco ha fatto con il cuore per un insomma direi qualcosa di speciale, che racconta una storia che va al di là del calcio, va al di là, è un'esperienza umana, è un film di cui io devo dire faccio anche fatica un po' a parlare perché mi ha lasciato dentro un sentimento speciale e ringrazio i ragazzi qui accanto a noi che insomma non si sono sottratti e grazie davvero perché Marco è stato bravo ma insomma ci avete messo il cuore. Passo la parola anche a Rai perché insomma non è facile in questo periodo anche credere e strutturare, come dicevi giustamente, i documentari che hanno bisogno di forza, questa era una storia che ci dava tanto, ci restituiva in termini emotivi su più livelli secondo me e Paolo in particolare è stato un compagno di viaggio che ha seguito con grande attenzione tutta la lavorazione fin dalla fase di riprese di interviste, di montaggio e anche adesso distributiva grazie a Zero Uno e insomma il ringraziamento va a voi in modo speciale. Grazie, mi faciliti il compito e dai la parola a Dottor Del Brocco. Non arriva aspetta, ma noi facciamo come Rai Cinema facciamo un tipo di documentario sulla carta diverso da questo tipo di tema in realtà quando poi ho parlato con Marco, con il quale abbiamo fatto un bel po' di film insieme è chiaro che la chiave era completamente diversa, non era un documentario solamente o principalmente sulla storia sportiva ma qui c'era una storia umana di sentimenti, di amicizia, di valori fortissimi per cui anche per chi come me ha vissuto quegli anni da appassionato di calcio è stato anche facile per poter aderire a questo progetto ho avuto la fortuna di andare anche qualche cosa che non mi succede quasi mai qualche giorno con loro, sono andato a Londra a casa di Gianluca e devo dire è stato un momento molto molto bello e insomma devo dire sono stati fantastici tutti loro ad aderire a questo progetto e a capirne anche lo spirito profondo e lo vedremo in sala però, questa è la cosa importante certo, la cosa importante è questa a tal proposito ho una piccola curiosità dottor Del Brocco, lei è la persona più adatta questo sdoganamento dei documentari, film documentario sullo sport, in particolare il calcio adesso c'è stato l'uscita del film su Gigi Riva di Riccardo Milani cos'è una ventata nuova rispetto alla sala un tentativo di... ci sono dei tentativi diversi ad esempio anche il documentario sul Milan che però era prettamente calcistico, sportivo è andato molto bene poi per noi ha aperto un po' la stura c'è il mio responsabile di documentari che è devastato gli porto tutti questi film sul calcio abbiamo fatto il God de Turon era buono proprio partendo da questo tipo di film no, è una possibilità nuova e il calcio o lo sport dà la possibilità di raccontare delle storie, appunto sì, prendono le mostre allo sport ma sono soprattutto umane, di valori e di sentimenti e penso che sia un bel filone anche perché poi grazie alla televisione generalista la Rai, ma anche alle tante piattaforme questo tipo di prodotto ha una lunghissima coda e quindi lo si vedrà per anni e anni e questo francamente per chi opera nell'audiovisivo è un fatto estremamente positivo benissimo ho visto una persona che si era prenotata se possiamo portargli il microfono grazie eccolo qui eccolo, sta arrivando di qua se per cortesia ci dici il nome Luca Gattuso Radio Popolare di Milano perfetto, grazie due domande per loro cinque la prima dal film esce una chimica di squadra che volevo capire se era proprio specifica della Sampdoria oppure avete trovato anche in altre società in cui avete giocato una chimica magari non a questi livelli perché sicuramente a questi livelli è difficile trovarla la seconda domanda la faccio a Lanna Vialli Mancini e Bonetti visto che il film si apre con Sereso che parla male di Vierkwood e si chiude con Pagliuca che prende per il collo Vierkwood se ognuno di voi dice una cosa buona su Vierkwood grazie guarda da romanista la dico io una cosa buona su Vierkwood mi ha fatto vincere uno scudetto quindi chiudo così prego chi risponde? Gianluca Viali buongiorno a tutti allora innanzitutto vorrei fare un passo indietro e raccontarvi di quando è nato in realtà questo progetto più o meno tre anni fa io ricordo una telefonata con Marco Lanna nella quale abbiamo discusso della possibilità di celebrare in qualche modo il trentennale della vittoria dello scudetto naturalmente cercando di fare una cosa che potesse rappresentare un po' lo stile di quella squadra cioè fare una cosa divertente fare gioco di squadra ma unire anche qualcosa di utile e quindi da qui diciamo l'idea di trasformare questo progetto in un modo per raccogliere fondi da destinare ai benefici praticamente e quindi abbiamo scelto l'ospedale Gaslini come ricevente dei fondi ricavati dalla vendita prima del libro e poi da quello che abbiamo ottenuto cedendo i diritti per trasformarlo poi in un documentario e quindi insomma con Marco si discusse di questa cosa benissimo progetto benefico con Gaslini noi abbiamo un rapporto che va appunto indietro rispetto a quando giocavamo con la Sampdoria un ospedale insomma che come sapete si cura si prende cura soltanto dei bambini e a quali siamo sempre stati molto legati quindi progetto benefico ma anche voglia di celebrare il trentennale della vittoria dello Scudetto come dicevo in maniera divertente in maniera però profonda professionale competente e quindi secondo passo parlarne con il mio editore di fiducia Andrea Del Monte che è qua in prima fila e Mondadori e quindi trasformare questa idea in un libro Esce la bella stagione è un libro che mi sembra di poter dire assolutamente innovativo perché è stato scritto veramente da tutti noi nel senso che tutti abbiamo contribuito ed è una storia particolare perché molti di questi libri raccontano il diario di una stagione o si soffermano sulle diciamo sulle prestazioni sulle partite sui risultati grazie anche alla penna magica di Pier Domenico Baccalario col quale io avevo già scritto una cosa l'abbiamo trasformata in un libro che racconta diciamo una cultura che racconta una serie di valori che sono stati poi la base del successo di quella squadra e quindi il senso di appartenenza la profonda amicizia che è cerata di noi la necessità assoluta di cazzeggiare perché questa è una cosa che abbiamo sempre cercato di fare e quindi vincere divertendoci e sfidare un po' quella che era all'epoca lo status quo naturalmente ispirati da un uomo da un visionario un uomo che ci aveva coinvolto il nostro presidente che poi insieme a Paolo Borea e a Bugia di Mboscov sono stati gli artefici di questa di quella meravigliosa avventura quindi esce il libro il libro ha successo e da lì il passo successivo è stato quello di provare a trasformarlo in documentario da lì l'incontro con Marco l'incontro con Rai Cinema con Groenlandia e con Zero Zero scusa sembra il risultato di una partita in trasferta e quindi da lì è nata questa cosa che adesso non voglio dilungarmi a me sono quelle cose che oggi io dovremmo essere noi e chiedere a voi com'è il film perché noi l'abbiamo visto però fino a un certo punto quando poi è stato completato abbellito con le musiche con la colorazione con tutto abbiamo detto guarda non vogliamo vederlo vogliamo vederlo il giorno della premiere così ci emozioneremo sicuramente quindi speriamo che vi sia piaciuto è certo un film che ci rappresenta ed è un film che grazie a Marco e alla collaborazione di tutti perché ci abbiamo messo veramente dell'impegno abbiamo cercato di far uscire quelli che erano i valori di cui parlavo prima quindi io avrei finito per adesso rimane la difesa di Bjerko la mia è relativa insomma sono di parte aggiungo volevo dire chiaro che adesso l'obiettivo è stato raggiunto il film è stato fatto tutti mi dicono essere molto emozionante lo vedremo dopo e spero che appunto siate tutti soddisfatti di quello dell'impegno che ci abbiamo messo perché veramente ce ne abbiamo messo molto però la cosa bella è stata come al solito più che il raggiungimento dell'obiettivo il percorso e per me il percorso cioè riparlare di certe cose coinvolgere le nostre chat il solito cazzeggio sono state cose che mi hanno riportato indietro 30 anni e ci hanno permesso di raccontare sia alla generazione che queste cose le ha vissute in prima persona quindi i nostri tifosi dell'epoca sia alle nuove generazioni che magari certi valori un po' sfuggono visto che è un mondo diverso rispetto a 30 anni fa e quindi come diceva e qui veramente concludo ho visto il film di meraviglioso di Sorrentino La mano di Maradona no? La mano di Dios La mano di Dios in cui a un certo punto c'è una scena alla fine in cui lui da giovane fa il bagno nel golfo di Napoli insieme a un regista col quale è una conversazione e il regista gli chiede ma tu hai qualcosa da dire? E lui dice sì e allora devi fare del cinema e allora siccome noi avevamo qualcosa da dire abbiamo fatto questo documento il regista è capuano allora c'era per la difesa di Viercovo dove possiamo anche andare che risponde sulla chimica ma parlano i risultati io non vorrei dire ma insomma buonasera a tutti io obiettivamente una cosa di questo tipo non l'ho trovata da nessuna parte né in Italia né in Spagna quindi diciamo che era un ambiente magico obiettivamente penso che sia irripetibile la secondo il secondo giornalista buonasera Valerio Arrichiello secolo XIX a parte che ecco volevo dire a Vialli sì è davvero emozionante almeno per quanto mi riguarda credo che sia veramente un qualcosa da vedere perché si piange e si ride contemporaneamente però volevo chiedere due cose una secondo me emerge fortissimo il valore della vostra amicizia l'amicizia vostra che è poi l'emblema dell'amicizia di tutta la squadra ma anche l'amore per la Sampdoria cioè voi non volevate solo vincere voi volevate vincere con quella squadra che magari non era quella destinata a vincere nel riparlarne dopo tanti anni quanto è ancora forte questo amore per la Sampdoria quanto è stato decisivo e poi le emozioni che avete provato nel rivivere quei momenti con il regista Marco Ponti ma buonasera a tutti allora io credo che come ha detto Luca come ha detto Marco e anche Marco Ponti spero che questo film possa essere utile veramente alla nuova generazione ai ragazzi di oggi perché credo che veramente sia un film che va al di là della vittoria perché poi molte squadre hanno vinto e continueranno a vincere ma questa è veramente una storia di amicizia che se poi siamo riusciti a fare questo questo duco film è perché siamo veramente rimasti tutti amici lo siamo ancora oggi come trent'anni fa e la nostra è stata sicuramente noi siamo riusciti a fare questo per l'amore che avevamo per il rispetto che avevamo uno con l'altro grazie a un grandissimo uomo come Paolo Mantovani ma lo avevamo a fare con la Samp perché tutti noi in quegli anni lì abbiamo avuto momenti dove avevamo potuto lasciare la Samp andare a giocare in altre squadre magari vincendo anche di più però il nostro amore quello che noi provavamo per quella maglia e che proviamo ancora oggi perché comunque sono stati i migliori anni della nostra vita insomma ci ha dato la forza veramente di riuscire a raggiungere obiettivi oramai impossibili difficili da raggiungere oggi quindi è chiaro che è stato qualcosa in più che andava al di là dell'aspetto sportivo Passiamo a un'altra domanda Buongiorno sono qui in alto buongiorno Federico Giuliani cammxum.it questo film come anche qualcosa di simile che abbiamo visto di recente la squadra che raccontava una squadra che raccontava la squadra che ha vinto la Davis negli anni 70 conferma come lo sport sia un grandissimo veicolo di narrazioni e di epiche quello che volevo chiedere ai protagonisti di questa di questa storia è nel momento in cui stavate vivendo quei momenti quanto si è coscienti della forza dello sport che va oltre appunto la singola partita il singolo campionato la singola competizione e che diventa parte di qualcosa di più di più grande chi risponde prego per quanto riguarda questo devo dire che quella squadra era formata da 11 titolari ok ma erano 22 amici perciò più semplice di così non c'è perché abbiamo pure litigato tra di noi come in tutte le grandi famiglie abbiamo avuto le nostre problematiche però siamo sempre stati tutti uniti per un unico obiettivo portare quella squadra a vincere qualcosa e soprattutto come ha detto prima Roberto far felice una persona che secondo me era più di un padre e che era Paolo Mantovani un grande presidente è una grande persona che in tutti in quegli anni dove abbiamo cercato di costruire una grande squadra non si è mai una volta permesso di criticarci pur tante partite non giocandole al meglio di noi stessi lui è sempre riuscito a difendere la squadra e a inculcarci la voglia di essere di stare assieme e di essere tutti amici perché far andare d'accordo comunque 22 o 24 persone era molto difficile e lui era molto bravo in questo e dopo lo siamo stati anche noi perché la maggior parte di noi sono rimasti lì per tanti anni e siamo riusciti a creare un gruppo con l'obiettivo di vincere e noi ci siamo riusciti dopo un po' di anni però ci siamo riusciti c'è un'altra domanda sì buongiorno Andrea Giordano per Icon una domanda per Gianluca Viale per Roberto Mancini il vedere questo commentario fa pensare anche all'oggi a quanto certi valori di 30 anni fa a come il calcio veniva vissuto forse si è un po' perso in termini di valori quindi volevo capire quanto è stato importante unirvi in nazionale e quanto è stato importante quell'abbraccio che si vede anche in questo documentario che davvero un po' racchiude quel senso di amicizia di unicità che credo sia figlio proprio di quel periodo grazie che risponde Luca Vialli o Mancini è rosso è rosso va bene così beh io credo che insomma adesso io non ho rivisto il finale ho visto un po' non era ancora pronto quindi non ho visto l'abbraccio finale che è quello che credo che rappresenti un po' tutto che non rappresenta solo il fatto di aver vinto l'europeo dove noi avevamo perso trent'anni fa una finale di Coppa dei Campioni rappresenta il fatto che lì quell'abbraccio racchiudeva l'amore l'amicizia che c'è sempre stato tra di noi i sandoriani l'amore per tutti gli italiani in quel momento lì quindi racchiudeva un po' tutto è stato veramente qualcosa di speciale credo al di là ripeto della vittoria che è stata importantissima e quindi insomma l'inizio della domanda era questo che sia sufficiente altre domande mi sentivo di aggiungere una cosa quello che diceva hanno già detto Pietro e il mister a proposito dell'importanza di Paolo Mantovani io non so se non ricordo se l'ho detto nel documentario immagino di sì scusate se mi ripeto sono fermamente convinto che oggi i giocatori siano molto professionali che abbiano delle conoscenze che noi magari non avevamo nel gestirsi anche a livello fisico mentale la dieta il preparatore atletico personale eccetera quindi da quel punto di vista sono convinto che siano veramente a un livello probabilmente superiore rispetto a quello in cui eravamo noi detto questo come si dice se tu assumi una persona per fare un certo tipo di lavoro questa persona è una persona molto professionale questa persona ti darà il 100% ma se tu a questa persona vendi una visione e lo coinvolgi nel progetto questa persona non solo ti darà il 100% ma ti darà anche sangue e lacrime e devo dire che è un po' quello che io ricordo la prima volta che sono entrato nell'ufficio del presidente in cui c'era sempre la nebbia perché lui fumava 40 sigarette al giorno e mi ricordo che la prima cosa che mi disse fu io sto cercando di costruire quello che per me è un progetto perché voglio veramente dimostrare che anche una squadra come la Sampdoria può vincere lo scudetto anche una squadra di ragazzi come sarete voi può divertirsi divertire e vincere lo scudetto e quindi mi piacerebbe che tu facessi parte di questa missione e chiaramente alla mia età di fronte a un uomo così carismatico e immagino che sia successo un po' a tutti noi sono uscito dall'ufficio e come ho detto più volte pronto a mettermi nel metto andare sul campo di battaglia e a dare tutto per poterlo soddisfare e quindi credo che la visione di colui che è a capo del progetto e la capacità di renderlo credibile e spendibile con le persone che devono accompagnarlo in questo viaggio sia assolutamente fondamentale ci sono altre domande sì ho visto due mani che si alzano due signore fate ecco sì perfetto poi passiamo dietro buongiorno Giorgia Mecca per il Corriere della Sera di Torino volevo chiedervi se dopo la finale dell'europeo avete fatto pace con la finale di Coppa dei Campioni che avete perso se siete riusciti a dimenticarla e poi se nel 2022 nel 2025 può esistere un'altra storia come quella della Sampdoria secondo voi e perché no sì rispondo io perché loro hanno fatto pace sicuro perché quella l'hanno rivinta con la Juve poi quindi Pietro e Luca noi ancora no purtroppo però come ho detto prima quella finale lì è stata talmente importante che ha racchiuso un po' tutto e ha chiuso anche un cerchio quindi insomma è questo io spero che ci possa essere ci possano essere altre storie così ma credo che lo sport il calcio sia pieno di queste storie così incredibili bellissime che te le regalano quando meno te lo aspetti quindi la nostra speranza è quella che possa accadere di nuovo al più presto io invece aggiungo che personalmente ho sempre cercato di utilizzare quelli che possono essere definiti fallimenti a livello sportivo in motivazioni per far meglio insomma la volta in cui ha avuto la possibilità di riprovarci e quindi per esempio il mondiale 90 è andato in un certo modo poi arriva lo scudetto con la Sampdoria si perde con la Sampdoria anche e soprattutto per colpa mia la finale di Wembley poi però capita di rivincerla poi vinciamo l'europeo poi non andiamo al mondiale in questo caso è funzionato al contrario e niente quindi per me io sono sempre stato abituato a questi alti e bassi e credo di essere stato personalmente in grado di sfruttare i bassi per arrivare agli alti allora prima di dare la parola c'era Marco sì prego vorrei che qualcuno in questo caso Marco mi spiegasse quanta roba che ha detto Ivano hai dovuto tagliare perché non era possibile mettere era la domanda che volevo fare io guarda sei telepatico perché stavo per fare questa domanda io Ivano innanzitutto chiedo a Ivano se ha le calze della Sampdoria in questo momento ho la maligia volevo essere un po' più elegante oggi sono il bomber qua altro che via il culo ecco Ivano come dite voi bisogna prendere quello che dice voi dite toglierne la metà e poi forse sotto qualcosina ma io una domanda per te ma è vero che poi andavi prendevi l'aereo andavi allo studio 54 a ballare dopo la partita e poi tornavi in tempo per arrivare a Bogliasco no tutto parte perché ero uno dei pochi scapoli al 100% perché anche lui che era scapolo però era fidanzato quindi tutti avevano degli scheletri negli armadi io dovevo gestire un po' tutte le situazioni e quindi Pietro ce l'ho anche per te e quindi scheletri negli armadi nel senso che tanto ormai sono tutti separati si può dire un po' ma detto questo capite perché l'abbiamo tenuto per ultimo no più che l'aereo più che l'aereo mi ero stancato cioè di andare a festeggiare le nostre vittorie e poi dopo tornare al campo stanco dalla nottata mi ero mi ero veramente staccato quindi all'epoca avevo comprato una limousine con l'autista quindi arrivavo direttamente al campo il limousine negli anni 90 il che ero già avanti abbastanza o indietro dipende dal punto di vista Marco Ponti hai concluso? avrei un addetto solo su che si può raccontare tra Bierkovo e Serezo così soddisfiamo un po' anche la partea allora non so se ti ricordi Pietro non ne ha combinate tante eravamo in campo che allora io ero a centrocampo che lanciavo sulla fascia Serezo e Serezo da buon brasiliano commentava la sua azione quindi prendo la palla vado sulla fascia dribblo entro Bierkovo era appostato sul limite dell'aria che aspettava il cross faccio un cross e sbaglia il cross e Pietro comincia a smadonnare il silenzio bassa voce poi ripeto ma fa niente c'è un'altra possibilità rientro centrocampo abbonetto mi dà la palla va sul fondo insomma terza volta che va sul fondo cross e sbaglia Bierkovo da mezz'ora faccio negraccio di merda però Bierkovo Serezo non ho sentito io che stuzzicavo dico oh Tony sentito cosa ti ha detto che ha detto negraccio di merda è giusto se mi diceva bianco mi incassavo questa è la più leggera c'è un altro aneddoto ma lo facciamo ce lo racconta dopo la domanda mi spiace arrivare dopo questo momento divertente sono Marina Salvetti di Tutto Sport e volevo ritornare su un tema calcistico volevo chiedere al CT se è possibile ricreare quell'alchimia o se è già stata ricreata con la vittoria dell'europeo nel 2021 oppure visto che tu hai detto che rimani perché vuoi riscattarti nel 2026 con i mondiali del 2026 col film c'entra poco però beh faremo la stagione 2 sì appunto questo è il soggetto di quello qui iniziamo a lavorare da oggi come ho detto prima credo che una bella stagione mondiale si chiamerà a volte accadono delle cose inaspettate spero che accada di nuovo sì ma accadrà senz'altro io ho una curiosità se qualcuno intanto si prenota ma è vero che c'è stato un momento in cui mi dicono io ho sentito questa cosa in una domenica sportiva che Vialli e Mancini il proposito di fare le maglie della Sampdoria di Kashmir ma è vera questa storia? questo mi sono un po' esagerato eppure giuro di averla sentita no a Genova a Genova si era abbastanza caldo tanti anni fa adesso un po' di vera il clima è un po' cambiato però è vero che la maglia rossa e la maglia nera per dire è venuta fuori da una serata la solita serata del giovedì a cena da Edilio quando ci trovavamo per giocare a carte e così a cenare e venne fuori con la maglia perché giocavamo poi in Coppa contro il Grasso perché aveva la maglia bianca e azzurra quindi insomma questa è la storia delle maglie ecco la gialla che adesso non so da dove è uscita che non si può guardare che poi non è neanche giallo è un oro così no quindi voi sceglievate i colori ma non i tessuti in questo senso i tessuti li sceglievano gli stilisti quelli per la divisa però il maglioncino in casmi ce l'avevamo ah ecco quindi c'era un qualcosa che io invece non ricordo diverso io ricordo di aver fatto delle magliette per me e te in casmi sì però sì perché faceva freddo in quel periodo ti ricordi facevano lo stadio nuovo quindi ce n'era a metà praticamente era stato abbattuto e arrivava il vento dal mare dalle montagne che mamma mia quelle magliette lì un po' plastificate faceva venire un mal di pancia che dovevamo fare delle corse alla fine del primo tempo per arrivare in bagno in tempo quindi abbiamo siamo passati a un tessuto più adatto e chiaramente abbiamo scelto il casmi poi dopo ce li ha fatte Merello Merello a San Pier d'Arena dopo due o tre partite il presidente se ne è accorto perché aveva un colore leggermente più sì e quindi abbiamo dovuto tornare a mettere la maglia tradizionale però forse non so Tito tu ce l'hai ancora? quella di casmi? no c'è qualche altra domanda ce n'è una lì poi mi dite ecco è l'ultima e quindi buonasera Paolo Brusorio la stampa cosa direbbe Paolo Mantovani se fosse qua se vi vedesse tutti insieme e alla presentazione di un film su quella squadra grazie chi vuole rispondere di voi? rispondiamo tutti tutti io penso che lui ci stia vedendo e si stia divertendo un casino e sarebbe felicissimo insomma perché questa è una storia tutta sua noi siamo stati quelli che siamo arrivati dopo però è una cosa che solo Paolo Mantovani avrebbe potuto fare grazie grazie a tutti è stato veramente emozionante divertente e per noi che amiamo il calcio neanche ve lo dico grazie grazie infinito e buona serata grazie mille grazie a tutti grazie a tutti